Allora buttiamo il pomodoro, che sono pomodorini, però in questo caso possiamo fare anche il pomodoro più grande, ma tagliato un po' più. Ok? Olive normali, penottolate. E ci avrebbero pure le olive taggasse, ma oggi non le abbiamo trovate. E poi i tassi, si sa quando da sale e si mettono le tassi. Queste olive taggasse sono molto più piccoli, anche per le tassi a me. Ho acqua, ma poco per un minuto. Questo è un po' sottile, però di solito è doppio, è grosso, ed è meglio. Ma intanto lo mettiamo. Non è l'unico in soffetti, ma? Ok, bravo. Però questi sono un po' più piccoli. E va bene così. Perché poi questi lasciano l'acqua e sono molto morbidi. L'unico in soff هذا. Per un altro po' più piccoli. Per un altro po' più piccoli. beppe lontino a desiderio lasciamo cuocere la sua acqua adesso stiamo alla fine del nostro show mancano 5 minuti ma ci devono rimanere un po' di succhietto il piatto è pronto grazie allora il piatto è pronto dobbiamo impiattare partendo attenzione che non si un gretola che non si rovina perchè non si ha molto molto il fe bravo è stato bravissimo grazie grazie grazie